Cari amici, mi rivolgo anche a quei fedeli del piccolo resto che sono rimasti un po' colpiti dalla mia frase di ieri nel podcast su Lunacum, circa i 50 euro. Allora io ho fatto questo discorso, visto che i sacerdoti eroici del sodalizio mariano sono 8 e gli italiani sono 60 milioni circa, diciamo che hanno una media di 10 milioni a testa di fedeli da confessare, comunicare, eccetera, eccetera. Mi sembra una situazione un po' difficile, no? Allora che cosa ho detto? Rivolgetevi al vostro parroco, il vostro donna bondio di parrocchia, di quartiere, che se ne rimane rintanato nella canonica e fa le messe una con Papa Francisco, andate da lui, vi mettete in 10 amici, 5 euro a testa, gli regalate 50 euro e lui vi viene a casa e vi fa la messa in sede vacante, senza nominare Papa Francesco. Questo è molto importante, senza nominare Papa Francesco, perché spiega a Don Minutella che l'unione con la Chiesa è già implicita nel momento in cui si evita di nominare l'antipapa anticristico. Alcuni hanno pensato che in questa proposta ci sia una diminuzio verso il sodalizio mariano, perché loro si sono esposti, loro si stanno sbattendo per portare in giro i sacramenti validi, e allora questa mia proposta sarebbe un ripiegamento, eccetera, eccetera. In realtà, e ne ho parlato con lo stesso Don Alessandro, a voi non deve interessare la figura morale del sacerdote, perché se il vostro parroco, che per 364 giorni l'anno celebrerà la messa una con Papa Francisco, quello se la vede lui con il Padre Eterno, a voi non deve interessare. Mi spiego? A voi vi interessa che il sacramento sia valido, quindi le quattro specie, la materia, il pane e il vino, il sacerdote regolarmente ordinato, la formula corretta e l'intenzione, e l'unione con la Chiesa. L'unione con la Chiesa, cioè la formula in sede vacante. Questo a voi vi interessa. L'erogazione del sacramento deve essere pulita. Che poi quel sacerdote sia vile, sia vigliacco, sia mediocre, sia un pavido, sia un pauroso, una figura meschina, eccetera, a voi non interessa. Il sacerdote può essere anche un peccatore, ma l'erogazione del sacramento, se lui è validamente ordinato, ci sono le quattro specie, e l'unione con la Chiesa in sede vacante è valido. Ed è questo che a voi interessa. Quindi le figure morali di Don Minutella e degli altri sacerdoti del soddizio mariano spiccano, giganteggiano per eroismo, martirio, sacrificio di se stessi, eccetera, eccetera, ma paradossalmente la comunione erogata da Don Minutella ha la stessa validità del parroco che... del parroco Don Abbondio che ha paura di uscire fuori e che vi viene a fare la messa a casa in sede vacante. E questo è. Questo è. Ne ho parlato con Don Minutella, il quale ha perfettamente ragione. Ricordo che quando ero a Bologna, durante la conferenza stampa, io dissi, se voi non chiedete ai preti, certo quelli non è che mettono il cartello sul portone della Chiesa, si celebrano messe in sede vacante dalle ore 12 alle ore 14. E no, chiaramente non fanno così, no? Quindi siate voi per primi a chiedere ai vostri sacerdoti questo servizio. Poi, magari il 70% di loro vi dirà di no, un 30% magari convinto coi 50 euro vi dirà di sì, ma anche se quello viene solo per i 50 euro, a voi interessa che ci siano le quattro specie e la sede vacante. Questo è quello che vi interessa. Purtroppo le regole sono queste, non le fa Cionci, non le fa Don Minutella, non le ha fatte Don Bernasconi. Le regole della Chiesa sono queste. Quattro specie e l'unione con la Chiesa. Oppure, in caso di emergenza, dice il carone 844, anche le chiese ortodosse possono dare una comunione valida. Però deve essere un caso di emergenza, l'impossibilità di avere un'eucaristia cattolica, eccetera, eccetera, non ci deve essere nessun tipo di indifferentismo religioso. Quindi, tra l'altro, tra l'altro, non so nemmeno se poi il prete ortodosso, il popo ortodosso vi dia la comunione se non siete ortodossi. Quindi è veramente difficile. Una cosa è certa, una cosa è certa. La Chiesa scismatica antipapale che ha fatto le scarpe alla Chiesa di San Pietro, e certo non è in unione con Pietro e con la Chiesa, e che non fa parte delle Chiese orientali ortodosse, e che nessuno sa se è cristiana, ma anzi è palesemente eretica, per non dire totalmente anticristica, sicuramente non rientra nelle categorie previste dall'Ecclesia d'Eucaristia. Mi dispiace, è così. Perché l'Ecclesia d'Eucaristia, l'articolo 39, dice o la Chiesa, la Messa cattolica in unione con Pietro o con la Chiesa, oppure l'Eucaristia è valida nelle Chiese separate da Roma, che non sono cattoliche, che sono scismatiche, però che hanno un'unione con Pietro o con la Chiesa o che oggettivamente la richiamano. Chi di voi mi può affermare razionalmente che la Chiesa antipapale, che ha fatto le scarpe a Papa Benedetto, che l'ha cacciato, che l'ha messo in sede impedita, che benedisce le coppie gay, che da anni non risponde ai dubbi a dei cardinali, che viene accusata di eresie, che intronizza le paciamame, eccetera, eccetera, possa essere considerata una Chiesa cristiana, una Chiesa che per quanto scismatica, oggettivamente scismatica, richiami, oggettivamente l'unione con Pietro e con la Chiesa cattolica. Dimostratemi questo e io mi ricrederò. Dimostratemelo però. Quindi, attenzione, è chiaro il discorso dell'erogazione dei sacramenti. Il don Abbondio che vi viene a celebrare a casa in sede vacante eroga un sacramento altrettanto valido di quella dell'eroico Don Minutella, Padre Gebhardt e Don Bernasconi. Quindi, attenzione, perché sennò si rischia di cadere nel donatismo. Questo è un rischio. Il donatismo è quell'eresia per cui il sacerdote peccatore, o comunque che sia una figura morale bassa, indegna, non eroga dei validi sacramenti. Questa è un'eresia. Questa è un'eresia. Ripeto, il sacerdote vigliacco, il don Abbondio, quello che deve per forza fare la messa con Bergoglio perché sennò il superiore lo punisce, eccetera, se la vedrà lui col Padre Eterno. A voi non vi riguarda. Se la vedrà lui in ottica di fede con Domine Dio. Ripeto, quello che vi sto dicendo adesso l'ho precedentemente discusso insieme a Don Alessandro Minutella con il quale c'è piena concordanza su tale questione. Io ne parlo da laico, ne parlo con approccio laico perché voi non sapete se sono cattolico o laico, come ripeto spesso, però le regole sono queste. Io vi devo informare, queste sono le regole, i sacramenti sono validi a queste condizioni, quattro specie e unione con Pietro o con la Chiesa Cattolica. Bene, vi ricordo i prossimi appuntamenti, il 13 a San Severino Marche, il 14 a Montesilvano, il 17 febbraio a Civitanova Marche con Gianmarco Landi, il 2 marzo a Torino con l'Aico. legno. Se non vi siete iscritti al canale, per favore fatelo, è importante, se mettete un like è ancora meglio e grazie a tutti coloro che hanno voluto sostenere l'attività tecnica di questo canale che richiede molto lavoro. Un caro saluto a tutti.